Speriamo non mi abbia visto nessuno Altrimenti chi lo sente, tenente? Andiamo, sono in ritardo L'ore di controllo, mi sentite? Siete operativi? Bene Le cariche sono pronte? Perfetto, perfetto Allora Allora detonazione fra 30 secondi Sì, perfetto Ragazzi, che cosa fate qua? Stiamo per far esplodere una bomba nucleare Comunque sia Colgo l'occasione Per poter parlarvi dei Moskot Minzen Che sono comparsi all'interno della pellicola di Christopher Nolan Oppenheimer Assieme ai Moskot Lemtosh I quali li ho già recensiti Lascio qua sotto in descrizione il link a quella recensione Comunque sia, parleremo di loro Dopo questa detonazione 5 4 3 2 1 Explosione Prima di iniziare con la recensione Vi voglio informare che se desiderate acquistare i Moskot Milzen Li potete reperire all'interno dell'Ottica Pietroni di Macerata La quale possiede nella città marchigiana due negozi Uno a Corso Cairoli numero 35 L'altro a Corso Cavour numero 14 Inoltre ha un sito e-commerce Il cui link ho lasciato qua sotto in descrizione Iniziamo! Nel film Oppenheimer diretto da Christopher Nolan L'attore Robert Downey Jr. ha scelto come occhiali i Moskot Per interpretare il politico Lewis Strauss Che è stato prima membro e poi presidente Della Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti d'America Nella pellicola sarà il vero antagonista della storia Nei confronti di Robert Oppenheimer Il fisico che è stato il padre della bomba atomica In particolare Downey Jr. ha indossato due Lemptosh e un Milzen I primi due erano nelle seguenti colorazioni Brown Ash e Black Crystal Il Milzen era tartarugato La scelta di questi occhiali in questo film è stata perfetta Il loro design è assolutamente in linea con quella che era la moda Durante gli anni 40 e 50 Per quanto riguarda le montature Ma parliamo adesso di come oggi è reso disponibile questo modello In accordo con quello che è il concetto di occhiale fatto su misura Le colorazioni sono molteplici E vi cito alcune delle più famose Nero opaco, tartarugato, rosso robino, verde smeraldo, blu zaffero, blonde Le taglie disponibili relativamente alla larghezza della lente in millimetri Sono la 44, la 46 e la 49 L'esemplare di oggi è una taglia 49 nella colorazione Crystal Analizzandolo abbiamo un frontale dotato di cerchi molto rotondi Che permettono un'ampia visione periferica Poi al centro abbiamo un classico Keyhole Bridge Alle estremità abbiamo dei rivetti molto particolari Ciascuno di essi è caratterizzato da due dot fusi fra di loro Rivetti che andiamo a ritrovare anche sulle aste Le quali possiedono un'architettura alquanto strana Il loro spessore tende infatti a rastremarsi andando verso il centro Per poi dopo aumentare progressivamente nel lato opposto Parlando delle cerniere Esse sono costituite ciascuna da tre barili, tre anelli metallici Parlando delle incisioni presenti su quest'occhiale In particolare quelle sui terminali Ritroviamo su di esse l'anno di apertura del primo negozio della casa Moscot E sull'altro il logo carretto della Moscot Comunque sia, se volete più particolari in merito alla storia della Moscot Di questa azienda La potete ritrovare all'interno della videorecensione dedicata ai Moscot Lemptosh Link in descrizione Le mie considerazioni finali? Ebbene, ritengo i Milzen, i Moscot che meglio si adattano al mio volto I Lemptosh mi piacciono Però delle volte sono gli occhiali a scegliere il proprio portatore Potete riferire al quartier generale che il test è andato alla grande Come penso anche questi occhiali Come sempre ragazzi Se desiderate supportarmi Io vi invito a iscrivervi al canale A mettere like al video E a condividerlo con i vostri amici Noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao ragazzi!